Grazie Presidente, molto brevemente, naturalmente parto dalla fine, abbiamo bisogno di procedere tempo, diciamo subito che potremmo parlare in mente a questo attività, però semplicemente sono sentito qui su una questione. Innanzitutto vorrei ringraziare, finché non c'è il Presidente del grande studio di collaborazione di un gruppo fuori, ma non l'aspettavo, ma non l'aspettavo perché a me è sempre quello che ho pensato, ma non l'aspettavo perché c'erano i sospetti precedenti, c'erano i sospetti che si volesse per una volta forzare questo atto, perché dopo 8 anni che noi continuavamo a proporre questo regolamento non riusciva a proporre a portare avanti, a discutere, a discutere, non solo lo vado a proporre. Tra l'altro inizieranno un grande ruolo legale, ci siamo ancora più amici di Margaret, mi devo ricredere, mi devo assolutamente ricredere Presidente da tutti questi nostri sospetti. Questo Consiglio questa sera ha dato dimostrazioni di granissima maturità e soprattutto noi siamo stati a tirare spesso per le strade, mi piace dirlo così come uno dei maggiori confini comunali della storia di questa città. Io credo che con questo atto questa sera stiamo dando una grande dimostrazione che quando vogliamo andare a fare qualcosa davvero, se le città riusciamo a fare la bene e l'assoluta armonia. Detto questo, al collegato a Pitta vorrei semplicemente dire che, per quanto concerne una breve cosa che aveva detto fuori chiese, l'interessante è stata un po' presa, perché lui dice giustamente che alcune battaglie non possono essere in una parte sulla politica. Faccio dire questo pensiero presente, alcune battaglie in questa città, in questo nostro territorio, non possono essere solo affattate da una forza politica, non possono essere affattate solamente da chi fa parte di una parte politica, ci sono alcune battaglie che tutta la città, che tutti i musei comunali devono fare i propri e credo che questo Consiglio comunale, questo oggi ha dato questa dimostrazione. Grazie a tutti.